Sarà possibile affittare il Camp Nou per i matrimoni? Questa è l'ultima iniziativa presa dal Barça. Dopo la possibilità di affittare il campo per giocarci, arriva anche la possibilità di affittarlo per festeggiare il proprio matrimonio. Ma quanto costa? Il pacchetto più economico è 1.600 euro per una festa con 25-30 persone. Per avvicinarsi al campo però serve il pacchetto tra i 6-7 mila euro. L'ultimo pacchetto, che è anche quello più caro, è quello che comprende anche la sala tribuna. Gli invitati potranno essere tra i 300 e i 1000 e il prezzo è di 13.500 euro.